Anche a Forte Montecchio Nord, qui a Colico, la stagione estiva è cominciata ufficialmente. Ci troviamo sul tetto del Forte, uno dei forti più importanti del territorio lecchese. Siamo qui con due guide, Sara e Alice, per parlarci un po', per fare un bilancio iniziale di questa stagione estiva. Ecco, innanzitutto raccontateci in due parole dove siamo e come sta andando questa stagione. Ci troviamo a Forte Montecchio Nord, la stagione è partita discretamente a maggio e giugno, si è sentita un po' la mancanza dei turisti stranieri. Abbiamo avuto circa 3.000 ingressi, però ora comunque la situazione si sta riprendendo. Anche una giornata come oggi è andata molto bene con tanti stranieri che sono venuti a trovarci. Una giornata come oggi che di fatto è facilitata dalla presenza del Giro d'Italia Donne, che appunto è passata qui da Colico, ha fatto appunto una tappa colico-colico tutto il Giro del Lago e che ha portato anche dei turisti da voi. Una stagione che si diceva partita un po' in sordina per le ragioni che ben sappiamo, ma che adesso vede un po' la luce del sole, si può dire. Sì esattamente, infatti come diceva Sara oggi abbiamo già riscontrato un buon numero di turisti stranieri, adesso stiamo puntando molto sulle aperture giornaliere di tutte e tre le nostre strutture, quindi Forte Montecchio, Forte Fuentes e la Torre di Fontanedo. Appunto siamo aperti luglio-agosto tutti i giorni, dal lunedì domenica dalle 10 alle 17. Qui a Forte Montecchio infatti abbiamo visite guidate che partono ogni ora e fortunatamente appunto oggi stiamo avendo un buon numero. Ecco, un buon numero grazie anche al progetto Apriamoci alla Bellezza che ha portato una serie di turisti, progetto voluto da Lario Rieti Holding e da Fondazione Comunitaria delle Chiese che consente di valorizzare le bellezze del territorio e anche questo è stato un incentivo di fatto per qualche turista. Da dove vengono principalmente i vostri fruitori? Allora, i nostri turisti stranieri arrivano principalmente da Olanda e Germania, però non mancano anche paesi un po' meno noti. Abbiamo avuto ad esempio nei giorni scorsi persone dalla Polonia, dalla Lettonia, dalla Finlandia, quindi siamo proprio amati da tutta l'Europa e anche da tutto il mondo, però gli americani li stiamo ancora aspettando. Anche perché c'è qualcosina ancora da chiarire per le normative Covid. Ecco, una domanda così improvvisata. Qual è l'aspetto che più colpisce i turisti che voi avete potuto vedere insomma durante i vostri anni, si può dire, di servizio qui? Beh, sicuramente sono i cannoni, pezzi unici al mondo che si trovano appunto ancora nella loro postazione originale in condizioni quasi perfette, tutti e quattro ancora perfettamente mobili, quindi i turisti sono sempre molto sorpresi nel vedere con i propri occhi delle opere in ingegneria di questo tipo e soprattutto poi salire qui sul tetto e ammirare la bellezza del territorio. È, diciamo, il nostro punto forte. È decisamente un punto forte, chiudiamo su questo perché è una posizione veramente strategica quella in cui a questo punto questo forte è stato costruito. Di fatto siamo all'imbocco delle due valli principali insomma del nostro territorio, possiamo vedere... Possiamo vedere Valtellina e Val Chiavenna, ci troviamo proprio sulla... Val Chiavenna qui alla nostra sinistra. Esatto, sulla punta, comunque sulla cima del lago di Como, quindi una zona incredibilmente strategica in cui è stato posizionato Forte Montecchio. Ecco, facciamo vedere qualche immagine conclusiva e di sottofondo possiamo dire a chi volesse venire insomma a visitare il forte, come fa, qualche informazione pratica, cioè da chiamare, da prenotare, come funziona? Attualmente le prenotazioni non sono più obbligatorie, dati nuovi di PCM, però potrebbe comunque sempre essere consigliata perché abbiamo un numero massimo di 20 persone per giro, quindi magari in giorni un po' più affollati come i weekend comunque chiamare e inviare un'email è sempre consigliato. È sempre consigliato, bene, io ringrazio Sara ed Alice per averci illustrato un po' questa stagione estiva, agli inizi e che speriamo appunto abbia un proseguimento molto più intenso di quello che ha potuto avere quest'oggi. Da Forte Montecchio Nord è tutto, noi vi auguriamo un buon proseguimento di giornata, grazie per averci seguito.